ansa città del vaticano 21 8 le chiacchiere sono quello che più distrugge la fraternità sacerdotale il chiacchiereccio è un atto terroristico con le chiacchiere butti una bomba distruggi l'altro e te ne vai sarebbe bello mettere un cartello niente chiacchiere qui nell'ascensore c'è la madonna del silenzio niente chiacchiere lo ha detto il papa incontrando i sacerdoti brasiliani che vivono a roma